La diocese di Fano Fossombrone Caglipergola, con in particolar modo l'ufficio per la pastorale per i problemi sociali e del lavoro, ha deciso di organizzare un incontro di presentazione, ma anche di riflessione, dell'ultima enciclica di Papa Francesco, laudato sì, sulla cura della casa comune. Per farlo ha scelto e ha invitato tre relatori di eccezione che ci illustreranno attraverso le loro riflessioni e l'approfondimento dei temi che l'enciclica tratta. In particolar modo avremo come ospiti Don Gianni Giacomelli, monaco camaldolese e priore del monastero di Fonte Avellana, Daniele Garota, sicuramente un testimone d'eccezione di come interpretare la cura per il creato e per la terra. Da anni ha fatto una scelta di vita vicino alla terra, alla cura della terra, insieme alla sua famiglia. Tratta anche di temi attuali attraverso i suoi saggi per proprio approfondire la cura per il creato attraverso la fede religiosa. E infine padre Adriano Sella, attualmente è direttore nazionale del coordinamento interdiocesano Nuovi Stili di Vita che da Padova coordina una sessantina di uffici in altrettante diocesi. Ha avuto un'esperienza in Amazzonia dove è stato anche presidente della Commissione Giustizia e Pace ed ora si trova in Italia appunto a Padova. Che cosa sono i nuovi stili di vita? Beh, sono appunto quegli strumenti che la gente comune ha a disposizione nella sua vita quotidiana per influenzare la realtà economica e anche sociopolitica attraverso delle scelte responsabili. Ecco, sicuramente l'enciclica di Papa Francesco ci stimola e ci interroga proprio da questo punto di vista come le nostre scelte responsabili quotidiane e soprattutto uno stile di vita improntato alla cura per il creato, all'attenzione agli altri, possa veramente influenzare anche un sistema vasto come quello globale a cui oggi assistiamo.